Il mondo in casa. A Trento, un forum di riflessione e approfondimento per indagare il rapporto fra media e fenomeno migratorio. Mercoledì 30 marzo, dalle 9 alle 11, Sala Rosa del Palazzo della Regione, Carta di Roma, questa sconosciuta. Dalle 11 alle 13, Lo straniero in prima pagina, come viene raccontata l'immigrazione. Dalle 15 alle 18, Aula Magna del Seminario Maggiore, Notizia Colori, esperienze di giornalismo interculturale. Grazie per la visione!